E bella ragazzoli e benvenuti su questo nuovissimo video. Che per caso ragazzi avete intenzione di comprare una nuova skin o una nuova emote nello shop e anche supportarmi allo stesso momento? Bene ragazzi, da oggi è possibile farlo e per fare questa procedura basta semplicemente andare su negozi oggetti, cliccare su questo pulsante in basso a destra, supporto a un creatore, e semplicemente andare a scrivere la parola Croatomist. Facendo così ragazzi ogni volta che voi shopperete qualsiasi skin o comunque i v-back nel gioco, supporterete anche me indirettamente. Ovviamente ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi all'interno del gioco e ovviamente ragazzi mi invito anche a lasciare un bel mi piace a questo video. Detto questo, buona visione! Tua madre che fa i raspelli! No, 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 please no, no, no! Mi sta prendendo il naso. Skin gratis! Ma... Era una skin gratis! Galaxy! No ma prega te, cazzo stava... Eh! Stava fissando il suo Samson Galaxy! Magari era pure da cellulare! Oh si schifur! Ah! Ah! Ok! ma è una pistola non ho piso no non ho piso le palle fuck non è buco ci rientro più di volte ma bella eh niente dai fammi fare lì il macario come cazzo si chiama vieni qua vieni qua come va come lo puoi fare mi doi una cosa bella allora il manettino è finito ma che è oh ma è una poppata in faccia oh cani sdina 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 abulla è con noi vieni qua la testa di c***o eccola marion eh che è frustato ti devi rispare solo con me capito solo con me guarda là proprio ti importa il no no ma le batte il cuoricino mi mancavi ma le vado da cazzo ora torno indietro così quando è il monto è che sono un c***o sai che ti dico va qualcuno che bussia un altro strotto ciao bello san valentino è fini no ma che tirano le brecce di cupido ho fatto spiegare cinque ore di tempo per cosa per morire come uno sui bibbi perché aveva due patto no dai devo farmare salve il mondo devo salvare il mondo oh my god oh my god oh my god safe in the chat please una madre e una donna proprio di merda ciao Grazie a tutti. E' lui, ragazzi, è lui quello che mi è scappato. Tu non scappi, baby. E' lui, ragazzi, è lui. E' lui, ragazzi, è lui. E' lui, ragazzi. E' lui, ragazzi, è lui. E' lui, ragazzi, è lui. E' lui, ragazzi. E' lui, ragazzi. E' lui, ragazzi. Una kill, boys, per il record. E' super il record. E' super il record. Ok. E' lui, ragazzi. E' lui, ragazzi. E' lui, ragazzi.